buonasera a tutti stasera volevamo provare con un aperitivo un po' sfizioso con delle bruschette bruschette con del formaggio e del tartufo nero estivo un po' tagliato a listarelle e un po' invece affettato qui dentro invece abbiamo messo dell'olio abruzzese con dell'aglio rosso di sulmona ancora incamiciato e adesso andremo a preparare il tutto una volta fatto insaporire l'olio con l'aglio lo abbiamo tolto abbiamo fatto raffreddare il tutto e abbiamo unito il tartufo quello a scaglie girato un attimino giusto per creare una cremina che poi andremo a mettere sulle bruschette ecco questo il risultato finale per il nostro aperitivo pane bruschettato formaggio fuso la salsina al tartufo dove avevamo fatto insaporire l'olio con l'aglio e poi sopra le fette di tartufo ripassate un attimino nel burro buon appetito